In questo numero del Salus Tg, depenalizzata dalla Cassazione la colpa lieve del medico. Rapporto dell'AIFA in nove mesi acquistate da ogni italiano 22 confezioni di farmaci. Sei italiani su dieci temono le cure del dentista. Un test misura la loro ansia. La Cassazione applica la legge Balduzzi e depenalizza la colpa lieve del medico. Lo si evince da una notizia di decisione della quarta sezione penale, che effettuando un intervento di erni al disco, causò il decesso di un paziente in seguito ad emorragia letale. La questione sotto la lente degli ermellini riguardava il quesito se la legge Balduzzi dell'8 novembre 2012 avesse determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dai medici. Nella notizia provvisoria si legge che la soluzione adottata è affermativa. Si è affermato il principio che la nuova normativa ha parzialmente decriminalizzato le fattispecie in questione e questo vale anche per i processi ancora pendenti. Gli italiani hanno acquistato nei primi nove mesi del 2012 un totale di 1 miliardo e 368 milioni di confezioni di medicinali, per una media di circa 22 scatole a testa, con una leggera flessione parlo 0,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e quanto emerge dal rapporto sull'uso dei farmaci in Italia tra gennaio e settembre 2012 presentato dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Ansia, paura e voglia di scappare via. Accade al 60% degli italiani quando devono affrontare le cure del dentista. Per il 10% è una vera e propria fobia e bene il 25% rimanda o evita le cure necessarie al cavo orale. Accelerazione cardiaca, sudorazione, tremori, capogiri, vertigini sino allo svenimento e sintomi dell'ansia da poltrona. A spaventare, spiega Daniele Benedetti Forastieri, specialista in odontoiatria a Senigallia, è la paura del sangue degli strumenti taglienti usati. In aiuto dei pazienti più paurosi è oggi però disponibile un test specifico, basato su poche domande, che permette di valutare l'intensità del timore.